serve aiuto signore ai giorni infanti lo incontrai un giorno a casa di Sergio Leone a pranzo una gran bella faccia però era spiritoso, era un po' insolente, era divertente, era cacerone allora pensavo che lui poteva fare benissimo il ruolo di quello che porta via Magda a furio il film è il primo film che ho fatto con Carlo è stata una benedizione perché era tanto tempo che non lavoravo divertendomi come è successo con Carlo insomma io vorrei che tutti i film fossero gelati da Carlo perché tutti quelli che mi offrono, lavorerei sempre con lui perché distende i nervi, si diverte lui, si diverte la truppe, si diverte l'attore poi ti aiuta anche nelle gestualità, se tu inventi una cosa lui ti trasseconda se gli piace se a qualcuno veniva un'idea, una gag, una cosa improvvisa così, Carlo l'accettava volentieri e non è poco lo spazio nella macchina sollecitandogli la vescica andiamo forza dai muoviti quando capita un furio in casa cessa la vita proprio io ho conosciuto qualcuno così e le mogli sono tutte scappate ma perché non mette a letto i bambini e viene a cena con me? no conosco un ristorantino, da queste parti niente male e poi vorrei raccontarle la storia della mia vita è molto interessante, sai, è tre continenti no, guardi, non mi interessa come non le interessa? almeno scendiamo già al bar a prendere un drink vieni no poi c'era per esempio il custode del cimitero quello con gli occhi proprio storchi lui si era messo in testa che era il mio maggior dono una cosa che faceva ridere tutti i matti Carlo si faceva delle risate, anche Sergio e allora l'ha preso per fare il guardiano del cimitero c'è poco da ridere Raul porterà via Magda però non credo che abbia intenzione di rimanerci per tutta la vita un'avventura, una cosa che sembra un'idea che si era messa in testa e l'ha portata a termine quindi la durata si può calcolare in una settimana il tempo che lui diventi è ancora più passo il rapporto con Sergio Leone è nato tramite un mio amico carissimo si chiama Rich Battaglia lui era molto amico di Sergio Leone e ha cominciato da ragazzo a portarmi insomma lì dice andiamo a Natale lo facciamo a casa di Sergio Leone mi ha chiesto Sergio Leone aveva fatto pochissimo ancora dice un amico, un amico e basta dai e così ci davamo appuntamento ogni Natale a casa sua poi ci vedavamo durante l'anno naturalmente però era fisso il Natale in casa Leone a Carlo per esempio piaceva molto, rideva molto quando io lo guardavo lo guardavo in scena gli facevo questo gesto ambiguo lo fissavo ma solo che io glielo facevo anche fuori scena e lui gli devo ancora di più te lo rifaccio Carlo è stato un grandissimo attore signora, la voglio dal telefono c'è suo marito è stato un po' di più